Al comunale di Nereto il Castelnuovo Umano battì 1-0 i padroni di casa ed ha continuità la vittoria contro la San Benedettese della scorsa giornata, mentre per il Nereto arriva la nona sconfitta consecutiva nelle ultime nove giornate. Partita spenta e priva di grandi iniziative, a scuoterla un po' solo la rete di Legidio nella prima frazione di gara. La prima occasione arriva all'ottavo minuto, Ludovici lanci in avanti Bubalo che con un tocco sotto cerca di beffare Diglio ma non riesce. Tre minuti più tardi il numero 9 del Castelnuovo tenta la stessa conclusione ma sulla fascia apposta, stesso tipo di tiro, stesso esito. Al ventottesimo si fa vedere in avanti la formazione di Mister Delgrosso, Montano si fa servire sull'angolo destro dell'area di rigore, conclusione fortissima che si spegne di pochi metri alla sinistra di Natale. Al trentaduesimo i Neroverdi passano in vantaggio, cross dalla sinistra di San Severino, sul secondo palo De Giglio si smarca bene e con un tocco sotto infila sul secondo palo l'estremo difensore Casalingo. Al quarantottesimo la formazione di Mister Di Fabio si rende pericolosa dalla sinistra, De Giglio serve Bubalo al limite dell'area ma quest'ultimo spara alto sopra la traversa. Al sessantasiesimo il Castelnuovo cerca il raddoppio sul calcio piazzato, Ragni si incarica della battuta, conclusione che sorvola la barriera ma non beffa Diglio. All'ottantasettesimo il Castelnuovo rimane in dieci uomini per l'espulsione del suo estremo difensore Natale, il quale avendo toccato la palla con la mano al difone dell'area di rigore riceve la seconda ammunizione che lo spedisce sotto la doccia. Nel rispettivo calcio di punizione il Nereto cerca il gol del pareggio, ci prova Antonelli con il sinistro ma il non entrato Scardillo è ben posizionato e può bloccare la sfera. Il triplice fischio e il Castelnuovo guadagnano tre punti fondamentali in chiave classifica che gli permettono di uscire dalla zona play-out, mentre per il Nereto non c'è più via di scampo. Sì sì sicuramente abbiamo ottenuto una vittoria con la Samba in dieci per un'ora quindi già quello ci ha dato grande morale. La partita di oggi sapevamo che era difficile perché il Nereto pur essendo retrocesso non regala niente a nessuno e anche oggi ha dimostrato che devo fare i complimenti a questa squadra perché sta onorando veramente alla grande il campionato. Quindi per noi era importante una vittoria che oltre al morale ci fa essere fuori in questo momento dalla griglia dei play-out. Sappiamo che è ancora lunga, che è ancora tosta però sicuramente adesso c'è la sosta, ci cogliamo queste due vittorie e ci prepariamo al meglio per la prossima partita cercando di recuperare un po' tutti gli infortunati. Sì abbiamo affrontato un'ottima squadra in salute, ben allenata quindi complimenti al Castelnuovo. Noi il solito Nereto ho tanto cuore e tanta generosità però ecco poca concretezza, i dati parlano chiaro quindi cosa dire, questa è la realtà. Non possiamo girare intorno a nulla, cercheremo di chiudere in maniera più dignitosa possibile. Quindi ai ragazzi chiedo solamente di trovare queste motivazioni che sento dire che non ci sono motivazioni quando a me questa cosa mi fa arrabbiare. L'unica cosa che mi fa arrabbiare perché quando si vuole intraprendere questo lavoro non posso sentire da ragazzi di 18 anni che non hanno motivazione. Perché hanno una maglia da difendere, una città che rappresentiamo, poi si vince e si perde nel calcio. Ma le motivazioni a 20 anni si trovano e come? Quando si è sopra e quando si è sotto.